Mentre Hamas afferma di aver accettato la proposta di cessate il fuoco, l'esercito israeliano attacca Rafah. Intanto Putin e il leader Nato giocano a uno strano gioco fatto di minacce nucleari e aggressioni belliche e in Europa va in scena il confronto fra il presidente cinese Xi Jinping e Macron barra von der Leyen. Parliamo anche di una nuova strage sul lavoro avvenuta a Casteldaccia, in provincia di Palermo, del festival Eco Futuro che prende il via domani e dove fra l'altro potete venire a trovarmi e infine di due belle storie di donne e cambiamento. Io sono Andrea Linocenti, oggi è il 7 maggio 2024 e questa è non mi rassegno, la segna stampa commentata di Italia che cambia. Sigla! Sui giornali di ieri e di oggi a tenere banco sono soprattutto la geopolitica e la diplomazia, con la visita del presidente cinese Xi Jinping in Europa, Hamas che ha detto di aver accettato un accordo di tregua proposto da Egitto e Qatar mentre l'esercito israeliano ha iniziato a fare evacuare Rafah per prepararsi, si teme l'attacco finale che forse è già iniziato, e Putin che minaccia attacchi nucleari mentre i vertici Nato si interrogano su un possibile intervento diretto delle truppe Nato in Ucraina. So che sono tante cose e che possono apparire al momento un po' confuse, ma proverei a raccontarle tenendole un po' tutte assieme, vediamo che succede. Partiamo con la visita di Xi Jinping. Il presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping è atterrato domenica in Francia, accompagnato in realtà dal ministro degli esteri Wang Ji, dando inizio al suo primo viaggio in Europa dopo cinque anni. È stato un po' un evento e insomma tanti giornali ne hanno parlato e ne stanno tuttora parlando. L'occasione, come ricorda l'IMES, è stata il sessantesimo anniversario delle relazioni diplomatiche fra i due stati, insomma fra Francia e Cina, però i temi all'ordine del giorno erano molti molti altri, in quelli che sono stati due principali incontri in programma durante la visita, uno con un incontro trilaterale con il presidente francese Emmanuel Macron e con la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e l'altro che è stato invece un faccia a faccia fra Xi e Macron. Comunque gli elementi più delicati all'interno di questi due incontri, a quanto ricorda la stampa, sono stati lato Macron e von der Leyen, la guerra in Ucraina, con la richiesta di interrompere le forniture cinesi alla Russia dei cosiddetti beni a uso duale civile militare, faccio una piccola parentesi per spiegarvi di che cosa si tratta, la Cina non rifornisce la Russia di armi, come fa ad esempio l'Europa con l'Ucraina, ma commercia con essa, quindi le vende altri beni che non hanno uno scopo militare, diciamo, esclusivo, ma che possono anche essere usati in quell'ambito. Ad esempio leggo su un sito di settore che Cina e Russia cooperano per lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale e tecnologie satellitari e che la Cina fornisce alla Russia microchip e altre tecnologie utili anche in campo bellico. Poi c'è la questione commerciale che è un altro degli aspetti su cui Macron e von der Leyen hanno fatto un po' di pressione al leader cinese perché il deficit commerciale europeo verso Pechino ammonta ormai a circa 300 miliardi di euro e sta diventando un problema, soprattutto in settori chiave per la transizione energetica come quelli delle auto elettriche, delle batterie e dei pannelli solari, settori in cui in pratica i rappresentanti dell'Unione Europea accusano il governo cinese di fare concorrenza sleale. Dal canto suo Xi avrebbe soprattutto difeso le auto elettriche cinesi e questo sarebbe stato, secondo il Post, il motivo principale del suo viaggio. Pensate un po'. Comunque, come abbiamo detto nel caso dell'incontro fra lo stesso Xi Jinping e il segretario di Stato americano, Antony Blinken, sono incontri importanti anche solo per il fatto di esserci questi qua. Anche se, in questo caso, Xi, come sempre accade tra l'altro nella diplomazia, sembra aver voluto lanciare una serie di messaggi indiretti o metamessaggi, potremmo chiamarli, anche solo nella scelta delle tappe successive a Parigi perché, lasciata le Francia, oggi il leader cinese si sta recando in Ungheria e Serbia e non sono due mete a caso, visto che proprio oggi ricorre il 25esimo anniversario del bombardamento della Nato all'ambasciata cinese a Belgrado e quindi la visita di Xi Jinping in Serbia sembrerebbe un modo, quindi una sorta di frecciatina, è un modo per ricordare all'Occidente che non è del tutto esente, anzi non è affatto esente da gravi colpe o crimini di guerra. Sullo sfondo di questo incontro, sia Putin da un lato che i vertici Nato dall'altro sembrano interrogarsi un po' sulla strategia da applicare al conflitto in Ucraina. Non so se è una sorta di balletto, anche qui fatto più di apparenza, che nasconde in realtà strategie già ben decise e delineate, o se rispecchia una reale incertezza, o se questo balletto, che ora vi vado a raccontare, è a sua volta una strategia bellica e fa parte insomma del conflitto in qualche forma, fatto sta che i messaggi che i leader mandano ai propri avversari e ai propri alleati sembrano essere abbastanza confusi e contraddittori. Vi faccio qualche esempio. C'è da qualche giorno un dilemma che sta disturbando i sogni di parecchi capi di Stato e capi militari dei paesi che aderiscono alla Nato ed è il seguente. L'esercito russo sta avanzando ormai abbastanza facilmente su tutto il fronte ucraino e la sua superiorità militare è del tutto evidente e negli ultimi giorni si sono fatti più insistenti le voci secondo cui una presa di Kiev da parte appunto dei russi non è più un'ipotesi così assurda. Quindi la domanda dei capi di Stato e dei capi militari Nato è quella più banale. Che facciamo? Perché è evidente che pur con tutti gli aiuti militari del caso l'esercito ucraino non è in grado di fronteggiare quello russo. Quindi che si fa? Si interviene, non si interviene, si lascia che la Russia vinca la guerra o si è disposti ad intervenire direttamente pur di evitare che questo accade? Ecco qualche giorno fa Macron e in maniera meno marcata ma insomma abbastanza simile Rishi Sunak, premier britannico hanno nuovamente ventilato l'ipotesi di un impiego diretto di truppe Nato in Ucraina. Putin a quel punto però ha risposto in maniera più convinta, più decisa rispetto al passato e ha risposto a quella che lui ha ritenuto una provocazione in maniera duplice. Da un lato con una minaccia molto chiara e dall'altro con una dimostrazione di forza militare sul campo. La minaccia è sempre la solita però stavolta la detta chiara e tonda ovvero che la risposta russa a questo scenario in cui le truppe Nato intervengono direttamente sul campo in Ucraina sarebbe di tipo nucleare. Come spiega un articolo di Repubblica firma di Gianluca Di Feo stiamo parlando di nucleare tattico, questo è sempre importante ricordarlo ovvero gli ordigni comunque molto molto potenti parliamo di bombe stile Hiroshima, Hiroshima o anche più potenti ma i cui effetti sono limitati nel tempo e nello spazio perché quando parliamo di nucleare esiste questa grossa distinzione fra nucleare tattico e nucleare strategico e ogni volta che si parla di utilizzo di armi nucleari in guerra ci si riferisce sempre all'utilizzo del primo tipo di armi quelle tattiche mentre il nucleare strategico è quello che è molto più potente talmente potente da essere praticamente in grado di spazzare via la civiltà dal pianeta ecco parliamo di questa scala di grandezza ed è stato sviluppato come arma di deterrenza quindi per non essere mai usato sostanzialmente addirittura in teoria come garanzia di pace perché il fatto che ogni attore sa che l'altro è in possesso di un'arma da fine mondo farebbe sì nella teoria che nessuno si spinga troppo oltre se vi sembra una strategia un po' del cazzo forse avete ragione però vi spiego la teoria poi non so la pratica esattamente come funzionerà comunque la minaccia russa ha un suo senso cioè la minaccia russa di usare il nucleare tattico visto che la Russia negli anni ha cercato di compensare quella che è un'indiscussa supremazia tecnologica militare della Nato con un numero maggiore di ordigni nucleari tattici e quindi ne ha molti di più anche rispetto agli Stati Uniti di conseguenza Putin sa che quando parla di questo argomento ecco può fare delle minacce che suonino abbastanza credibili l'altra parte della risposta di Putin è stato invece un ulteriore rispiegamento di forza e di potenza militare sul fronte ucraino come racconta ancora Di Feo su Repubblica l'esercito russo sta vincendo la guerra grazie alla maggiore quantità di uomini, mezzi e munizioni ma anche grazie a nuovi modi di combattere e armamenti innovativi ad esempio ha utilizzato proprio in questi giorni per la prima volta una bomba planante da una tonnellata e mezzo che non sapevo cosa fosse ma che secondo l'articolo è un ordigno in grado di spazzare via un condominio intero restando fuori dalla portata della contraerea diversi analisti sostengono che nemmeno nella primavera del 2022 all'inizio dell'invasione le truppe di Mosca abbiano avuto una potenza di fuoco così devastante ok questo è lo scenario bellico perché però vi dicevo che all'inizio di tutto questo discorso è un po' complicato mi rendo conto che c'è questa sorta di balletto con messaggi contraddittori e che sembrano mostrare una sorta di incertezza perché al tempo stesso sempre ieri nel mezzo di questa dimostrazione il Cremlino ha diffuso gli inviti ufficiali per l'inaugurazione del quinto mandato presidenziale di Putin sapete che ci sono state da poco le elezioni e adesso si inaugura ufficialmente il nuovo mandato di Putin e sono stati mandati gli inviti anche a tutti i paesi europei e occidentali compresi gli Stati Uniti, Canada e Gran Bretagna era una mossa un po' a sorpresa suonata abbastanza inaspettata che ha diviso i paesi stessi della Nato sul da farsi alcune nazioni sarebbero propense ad accettare l'invito a livello di ambasciatori ovviamente mentre altre sembrano intenzionate a boicottare al momento pare che Canada, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Regno Unito e Stati Uniti abbiano deciso di non partecipare mentre ci sarebbe un invito formale del servizio di azione esterna dell'Unione Europea che è un'istituzione europea ad aderire alla cerimonia e alcuni stati invece hanno, fra cui insomma spicca quello francese hanno fatto sapere che invece manderanno loro un basciatore alla cerimonia insomma sembra davvero un balletto strano di mosse, contromosse accuse, mani tese, dichiarazioni, azioni concrete è una sorta di lingua che non mi sembra di comprendere del tutto ma che capisco che ha i suoi meccanismi strani e però evidentemente in qualche modo formalizzati intanto anche sul fronte israelo-palestinese le cose sembrano oscillare fra ulteriori complicazioni e possibili soluzioni perché dopo settimane in cui l'attacco militare a Rafah che vi ricordo è la città più a sud della striscia di Gaza dove sono confluite tutti i civili le migliaia, milioni di civili che sfuggivano dai bombardamenti e l'unica a non essere stata ancora bombardata dicevo, se l'attacco a Rafah sembrava essere stato in qualche modo disinnescato grazie al lavoro diplomatico di vari governi fra cui quello americano, quello egiziano, quello del Qatar ecco, invece domenica è arrivato l'ordine di evacuazione già domenica stessa migliaia di civili palestinesi hanno cominciato a lasciare la parte orientale di Rafah dove città in cui vivono appunto circa uno, un milione e mezzo più o meno di sfollati palestinesi che hanno cercato di fuggio proprio lì l'ordine di evacuazione è stato dato nelle prime ore del mattino di domenica dopo che l'esercio israeliano aveva distribuito volantini e questi volantini avvertivano gli abitanti di spostarsi immediatamente verso zone diverse della striscia di Gaza in cui erano stati allestiti dei rifugi temporanei l'ordine di evacuazione secondo molti rappresenterebbe la fase preparatoria all'invasione della città preparata dal governo israeliano da settimane e più volte posticipata a causa appunto della pressione degli alleati internazionali di Israele comunque la notizia ha scatenato nuove pressioni e telefonate da parte di Biden e di altre amministrazioni europee e dei paesi cosiddetti alleati gli Stati Uniti hanno addirittura sospeso per la prima volta un invio di armi a Israele mentre insomma in tutto il mondo sono scoppiate nuove proteste pensate che alla Columbia University è stata addirittura annullata la cerimonia di laurea in segno di protesta non solo verso questo fatto ma più in generale verso l'invasione israeliana della striscia di Gaza al tempo stesso però ieri sera è arrivata un'altra notizia ovvero un sì di Hamas alla proposta di cessata il fuoco avanzata da Egitto e Qatar ora si sta attendendo la risposta del governo israeliano che pare la stia valutando anche se con un certo scetticismo non si conosce ad oggi il dettaglio di questa proposta anzi non si conosce proprio niente di questa proposta ma si sa che esiste e che i vertici di Hamas l'avrebbero accettata ciò nonostante però ieri in tarda serata l'esercito israeliano ha fatto prima sapere non so bene a quale titolo che le proposte dell'accordo di appunto Egitto e Qatar sono molto lontane dalle loro richieste e poi ha iniziato quelle che ha definito alcune azioni mirate a Rafa e mi tradotto in altre parole una serie di raid magari non ancora a tappeto ma comunque forse è iniziata l'operazione militare vediamo in tutto questo e poi insomma iniziamo a chiudere la notizia perché veramente vi ha dato penso forse anche troppi elementi l'amministrazione Biden circa dieci giorni fa ha approvato dopo lunghe contrattazioni il mega pacchetto di aiuti militari da 95 miliardi di euro 95 miliardi di euro che in pratica agisce su tutti i fronti aperti buona parte del budget va a sostenere il conflitto in Ucraina con circa 60 miliardi destinati a questo scopo 26,38 miliardi di dollari vanno invece a Israele per il potenziamento della difesa e della produzione di armi a parte 9 di questi miliardi che invece saranno destinate a esigenze umanitarie che vabbè fa un po' ridere come misura e mi sembra un filino ipocrita fatta forse per una facciata elettorale e poi ci sono i restanti 8 miliardi di dollari che invece vengono destinati al contesto dell'Asia Pacifico compresa soprattutto Taiwan immagino che anche qui le sonvenzioni a Taiwan siano sonvenzioni in armi in difesa per difendersi da un possibile attacco cinese però non è chiaro da quello che leggo negli articoli insomma comunque è un gran casino in cui districarsi anche solo in cui cercare di capire e restare aggiornati spero almeno di avervi aiutato a capirci un qualcosina in più sono passati pochi giorni dall'incidente della centrale idroelettrica di Suviana di cui abbiamo parlato più volte anche qui sui nomi rassegno e ancora meno giorni dal primo maggio festa del lavoro e dei lavoratori ed eccoci di nuovo costretti a commentare un altro caso di morti sul lavoro con 5 operai che sono morti in Sicilia per aver innalato dei fumi tossici e un sesto che è ricoverato in condizioni gravissime al Policlinico di Palermo comunque partiamo dal racconto dei fatti come al solito perlomeno da quel che sappiamo fin qui dei fatti siamo in Sicilia siamo a Casteldaccia un paese in provincia di Palermo e ci sono 9 operai che stanno facendo alcuni lavori nelle fogne per conto dell'azienda municipalizzata Acquedotto di Palermo che chiameremo AMAP come viene chiamata sui giornali da qui in avanti AMAP è la società che gestisce le reti idriche e fognarie di Palermo quelli che stanno lavorando sono in gran parte però sono dipendenti di un'altra azienda, un'azienda privata la Quadrifoglio di Partinico alla quale AMAP ha appaltato i lavori mentre solo uno di loro è un lavoratore interinale dell'AMAP tutti i nuovi operai sono al lavoro nei cunicoli dell'impianto di sollevamento delle acque reflue per un intervento di manutenzione e secondo le prime ricostruzioni i primi 6 operai si sarebbero calati uno dopo l'altro nell'impianto fognario con una scala in quello che viene al momento descritto come un incidente a catena cioè si cala il primo operaio, non esce si cala il secondo per andare a vedere che fine ha fatto il primo non esce e poi il terzo e il quarto e il quinto e il sesto il settimo finalmente non vedendo uscire nessuno chiama i soccorsi a quel punto arrivano i vigili del fuoco che recuperano 5 corpi senza vita e un operaio ancora in vita ma privo di sensi dalle vasche di sollevamento della rete fognaria l'operaio ancora vivo viene subito intubato ed è trasportato all'ospedale di Palermo dove è in coma nel reparto di reanimazione in condizioni che i giornali definiscono gravissime secondo quanto ha affermato il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Palermo Girolamo Bentivoglio gli operai sarebbero morti a causa dell'inalazione di idrogeno solforato che è un gas tossico e infiammabile che provoca irritazioni alle vie respiratorie gas che secondo le rilevazioni fatte successivamente nella vasca era al momento dell'incidente 10 volte superiore ai limiti massimi consentiti ora vediamo qualche dettaglio in più come riporta il Corriere e secondo quanto hanno accertato i soccorritori nessuna delle vittime indossava una mascherina di protezione che è una cosa che dovrebbe essere obbligatoria in questi casi ed è una cosa anche particolarmente strana anzi assurda per citare il presidente di Amap Alessandro Di Martino che ha detto letteralmente è una cosa assurda l'odore era tale che non è comprensibile come non si siano protetti cioè c'era un fortissimo odore emanato da questo gas da queste esalazioni per cui nessuno si spiega come mai non indossassero la mascherina l'articolo del Corriere ci dà poi anche un altro dettaglio che non credo sia irrilevante perché forse ci avrete fatto caso ma anche qui siamo forse di fronte allo stesso pattern ricorrente dei disastri italiani racconta il Corriere che Amap che gestisce la rete idrica e fognaria per Palermo e altri 53 comuni della provincia è accorto di personale e da anni ha ormai esternalizzato alcuni servizi e utilizza o operai di diritti private o lavoratori interinali in attesa di terminare le procedure di concorso per nuove assunzioni pendenti dal 2022 ora io non posso essere sicuro che questo sia il motivo degli incidenti però ecco mi sembra che abbiamo sufficienti indizi per fare almeno una mezza prova in questo caso abbiamo un'azienda pubblica una municipalizzata che è accorto di lavoratori dovrebbe assumere di nuovi ma non lo fa e preferisce subappaltare lavori a un'azienda privata e spesso in questi passaggi viene meno la sicurezza sia perché magari i lavoratori delle ditte private rispettano standard meno rigidi di sicurezza sul lavoro e di aggiornamento ad esempio sembra che in questo caso a quanto denunciano i sindacati alcuni lavoratori vittime di questa tragedia erano sotto inquadrati cioè avevano meno competenze rispetto alle mansioni che stavano svolgendo in cantiere e nessuno di loro nell'ultimo anno aveva svolto attività di formazione sia perché magari di passaggio in passaggio di azienda in azienda si perdono informazioni essenziali che invece dovrebbero essere conosciute sul luogo di lavoro sulle condizioni in cui dovremmo lavorare e così via comunque per protestare contro questo ennesimo caso di insicurezza sul lavoro le segreterie provinciali di diversi sindacati hanno proclamato per oggi uno sciopero di otto ore che si affianca a quello generale di quattro ore proclamato da CGL, CISL e UIL per tutti gli altri settori con presidio alle nove davanti alla prefettura noi come al solito comunque continueremo a seguire questa vicenda domani a Roma alla città dell'altra economia inizia l'undicesima edizione del festival Eco Futuro di cui da anni Italia che cambia anzi fin dall'inizio Italia che cambia è Media Partner se non sapete che cos'è Eco Futuro è un evento dedicato alle ecotecnologie che durerà quattro giorni quindi da domani fino a sabato e che attraverso incontri, spettacoli ed eventi affronta in modo molto approfondito sviscerando proprio bene gli argomenti una serie di tematiche cruciali per la costruzione di un futuro sostenibile vi faccio solo un esempio e non un esempio a caso domattina ci saranno un sacco di incontri dedicati alle comunità energetiche rinnovabili e a uno di questi fra l'altro se vi va di passare a fare un saluto interverrò anche io fra i relatori quindi vabbè trovate tutto il programma dettagliato sotto fonti articoli ma se passate fate un fischio oggi su Italia che cambia ci sono due storie con protagoniste due donne fra l'altro piccolo spoiler una di loro partecipa anch'essa a Eco Futuro Festival vabbè non vi dico altro lascio la parola a Francesco Bevilacqua che in questo contributo audio ci racconta un po' di più su questi due articoli che come al solito trovate sotto fonti articoli sulla pagina della segna stampa e del cambia.org a te Francesco ciao Andrea ciao a chi ci ascolta e ci guarda fra gli articoli di questa mattina ve ne segnalo un paio entrambi con due donne come protagoniste uno uscirà su Sardegna che cambia sarà una intervista della nostra Sara Brughitta a Giulia Piazza che chi ci conosce ci segue forse avrà già sentito perché è una delle responsabili del festival di turismo itinerante Itacà di cui siamo media partner da anni ma oggi parleremo più di lei e del percorso di cambio vita che ha fatto e un'altra invece di Cinzia Catalfamo a Lucia Cuffaro che è un nome che sicuramente avete già sentito tante volte e con lei parleremo dei suoi cavalli di battaglia quindi di decrescita, autoproduzione sostenibilità anche nella quotidianità domestica ma anche di lei, dei suoi interessi del suo percorso di vita bene io direi che noi ci possiamo salutare qua io vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Io non mi rassegno sempre a partire alle 8 canali YouTube sulle principali piattaforme di podcasting nonché sulla pagina della segna stampa e del cambia.org voi mi raccomando state bene, fate i bravi e ricordatevi che chi si rassegna è perduto